Nel corso di una conferenza stampa il Presidente del Consiglio Comunale di Senigallia Massimo Bello segna un breve racconto di fine anno dell'attività istituzionale svolta dal Consiglio Comunale di Senigallia nel corso del 2023 da gennaio a dicembre. La conferenza stampa di fine anno della Presidenza del Consiglio Comunale è una novità, una novità che ho deciso di istituire per fare il resoconto dell'attività dell'organo di governo Consiglio nell'anno che si sta per concludere. Una relazione per quello che riguarda i numeri e per quello che riguarda anche la natura dei provvedimenti che sono transitati all'attenzione del Consiglio Comunale, all'attenzione delle commissioni permanenti e all'attenzione della conferenza dei capigruppo. Un resoconto che serve per comprendere appieno la funzione del Consiglio Comunale tra gli organi di governo di cui l'ente locale è costituito. Il Consiglio Comunale è un organo fondamentale e importante ed è giusto, a mio parere, dare informazione su ciò che accade all'interno delle istituzioni. Quindi questa conferenza stampa di fine anno serve per informare brevemente ciò che è stato fatto nel 2023 e colgo l'occasione anche per augurare a tutti voi un buon 2024.